Andiamo? Dici che funzionerà? Non lo so, credo di sì. Ma cosa vuol dire credo di sì? Vuol dire credo di sì. Cos'altro può voler dire? Vuol dire credo di sì. Ma non puoi essere più chiaro. Gli hai parlato al telefono. Cosa vuol dire? Se volevi saperlo potevi venire lassù. Ma hai avuto paura. Ah, io ho avuto paura. Sì, hai avuto paura invece. Infatti, non ci sei venuta lassù. Dov'è Lotto? Non mi dire che mi sono fatto fregare da un sicario. Ah, andiamo bene. Dov'è quel gran figlio di puttana? Livingston non ha avuto il tempo di appertire i suoi uomini. Meglio finarcela. Salve. Salve. Cosa state facendo qui? Beh, noi stavamo... Stavamo... Mi scusi. Dio un'occhiata alla mia ragazza. Cosa pensa che facessimo? Eh? Allora? Avete qualcosa contro gli alberghi? Sa, la verità è che noi due... Perché non glielo dici tu? Io non so spiegarmi bene. Vede, è un po' imbarazzante il fatto è... Il fatto è che lei si eccita molto a farlo in pubblico. Capo, ti vogliono al telefono. Non posso, sto parlando con questi due. Insomma... Se la signora sa che qualcuno lo sta guardando, si agita molto? Sa com'è, ognuno ha i suoi gusti. Forza, fatelo. Cosa? Io vi guardo. Vuole che la facciamo adesso? Va bene. Dai, coraggio, non te se lo andiamo. Tasca a destra. Molto bene. Sì, sei in gamba. Ma non farete sul serio? Siete disgustosi. Davvero. Questa è una proprietà privata. Andatevene subito da qui. Sporcaccioni. Maiali. Lo avrà chiamato Livingston. Vengono a fidercela. Già. Vai, 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 metti in mano! Cristo! Questa non ci voleva. Perché non ti avvicini, spaccone? Dov'è Luton? Credo che sia andato a un ololo. Non gli devi dire niente! Mi crederesti se... se ti dicessi che non so dov'è. Quali progetti hai? Quelli che hanno tutti. Una moglie carina, dei bambini, una casetta. Non sapevo che tu fossi un eroe. Ma come? Lo sanno tutti. Non si vede? E va bene, eroe. Facciamo così. Benzina, fuoco. I miei uomini aspettano solo un ordine, quindi ti conviene parlare, altrimenti... la ragazza muore. No! Fuoco! Max! 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 Insomma, ti vuoi sbrigare? Vieni subito a liberarmi! Abbassa la testa! No! 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 Non ho potuto restare! Ho trovato la carta igienica! Ho trovato dei giornali e dell'acqua, perciò siamo a posto! Continuano a spararci addosso! Che stronzi! Andiamo, presto! Allora, una per ciascuno. Mamma mia! Gli italiani! I russi! Come si dirà salve il russo? Da Svidania! Da Svidania! Hai dei proiettili calibro 9, li ho finiti! Saremo come tre moschetti! Anzi, è meglio che mi presti una pistola! E piantala, devi dire stronzate! Va bene, Diana! Ti permetto di sceglierne una! Ecco! No, questa no! Questa è mia! Ma come sei immaturo! Questa è adattata a te, una trento... Un momento di pazienza! Sta a sentire, con quanti uomini credi che ti dovrai scontrare? Quella lì è un'ottima pistola, ma dopo aver sparato sei colpi devi ricaricarla! Mi basterà sparare due colpi, uno per ciascuno! Dammi il tempo di concentrarmi per chiedere perdono dai miei peccati! Fatto! Diane! Brigati! Questa qui è nuova! Non vale niente, l'ho presa a una svendita! È una 40 automatica! Ha la stessa potenza di una calibro 45! È molto maneggevole! Ma cosa dici? Non ha la stessa potenza di una 45! Con che tipo di proiettili è caricata? Hollow points! Una hollow point all'impatto si appiattisce, penetra dappertutto, non ferisce, ti fa pezzettino! Il signor Sottutto vuole dare consigli su qualunque argomento! Leonardo da Vinci! L'ho notato! Ehi, ehi, fermo! Quella è un regalo della mia ex moglie! Puoi sceglierne un'altra? Dammi la 44! Ti dispasserebbe togliermi le manette, per favore! Scordatelo! Guarda che la ripoglio! Giù, andiamo! Questa cosa non mi piace, non dovrebbe essere armato! Sì, lo so... Forse voi due volete stare un po' da soli! Certo, è una buona idea! Ti aspetto di sotto! Abbiamo bisogno di lui! Non ti preoccupare, andrà tutto bene, vedrai! Ma quanto sei ottimista! Sai, stavo pensando che se ne usciamo vivi, forse potremmo cominciare a conoscerci un pochino meglio! Il set è il tuo numero fortunato! E questo cosa c'entra adesso? Quante volte sei stata sposata? Non sono affari tuoi! Nessuno ha mai voluto sposarti? Molti uomini volevano sposarmi! Ah, davvero? Sì! E allora? Allora nessuno mi meritava! Oh, quindi frequentare uno come me deve essere un'esperienza nuova per te, vero? Io credo che voi due sareste una coppia meravigliosa, anzi passabile!